Piazza Varchi vede i lavori annunciati da tempo, con i vari assessori ne abbiamo parlato, ma oggi siamo con l'assessore al Centro Storico, Piero Francini, perché si parla di riqualificazione, di ultimi interventi, ma per Natale ce la facciamo a ridare la piazza alla cittadinanza? Sì, assolutamente sì, anche perché abbiamo voluto intervenire velocemente, i lavori finiranno il 22 novembre, proprio per preparare l'impianto, praticamente riqualificare bene la Piazza Varchi, e anche Piazza Maggiotti, che fanno parte sempre del progetto Pius, proprio per prepararla per le feste natalizie, anche perché quest'anno in piazza ci sarà un bel allestimento, si può già anticipare, quindi avremo un abete alto, più di 10 metri, quasi 12 metri, con tutte le luminarie, perché? Perché l'Avis, l'Associazione dei Donatori di Sangue, offre questo abete alla città di Montevarchi, anche per promuovere la donazione del sangue. Il Comune metterà a disposizione il suo operario per l'allestimento e tutto, e loro procureranno l'albero. Poi avremo la pista di pattinaggio sul ghiaccio, avremo due giostre, avremo l'illuminazione, sempre con delle immagini sacre diverse da quelle dell'anno scorso nella facciata della collegiata, poi avremo i mercatini di Natale, proprio dell'Alta Italia e quegli stranieri, in piazza Vittorio Veneto dal 6 di dicembre al 21 di dicembre, quindi Montevarchi si prepara ad affrontare il Natale con delle belle iniziative, e quindi spero che la popolazione accorra numerosa, perché come sempre per Natale abbiamo pensato a creare di nuovo questo centro storico, un salotto con una bella accoglienza. Piazza Varchi vede i lavori annunciati da tempo, con i vari assessori ne abbiamo parlato, ma oggi siamo con l'assessore al centro storico, Piero Francini, perché si parla di riqualificazione, di ultimi interventi, ma per Natale ce la facciamo a ridare la piazza alla cittadinanza? Sì, assolutamente sì, anche perché abbiamo voluto intervenire velocemente, i lavori finiranno il 22 novembre, proprio per preparare l'impianto, praticamente riqualificare bene la piazza Varchi, e anche piazza Maggiotti, che fanno parte sempre del progetto Pius, proprio per prepararla per le feste natalizie, anche perché quest'anno in piazza ci sarà un bel allestimento, si può già anticipare, quindi avremo un abete alto, più di 10 metri, quasi 12 metri, con tutte le luminarie, perché? Perché l'Avis, l'Associazione dei Donatori di Sangue, offre questo abete alla città di Montevarchi, anche per promuovere la donazione del sangue. Il Comune metterà a disposizione il suo operario per l'allestimento e tutto, e loro procureranno l'albero. Poi avremo la pista di pattinaggio sul ghiaccio, avremo due giostre, avremo l'illuminazione, sempre con delle immagini sacre, diverse da quelle dell'anno scorso nella facciata della collegiata, poi avremo i mercatini di Natale, proprio dell'Alta Italia e quegli stranieri, in piazza Vittorio Veneto dal 6 di dicembre al 21 di dicembre, quindi Montevarchi si prepara ad affrontare il Natale con delle belle iniziative, e quindi spero che la popolazione accorra numerosa, perché come sempre per Natale abbiamo pensato a creare di nuovo questo centro storico, un salotto con una bella accoglienza.